Ciao Massi, partita veramente intensa sotto un punto di vista fisico, anche loro hanno difeso veramente molto bene, alla fine sotto canestro avevano Cuba, anziché malfatti, onestamente erano anche abbastanza grossi, siamo stati bravissimi a iniziare bene, tenendoli a zero punti per sette minuti e mezzo più o meno, poi insomma è stata tirata tutta la partita, abbiamo fatto fatica a trovare canestri da fuori, però siamo stati molto precisi in difesa, gli abbiamo tolto quasi tutte le loro armi e onestamente le abbiamo tenute a 49 punti fuori casa, quindi meglio è veramente difficile. Sono contento tanto per l'atteggiamento perché in questa partita abbiamo visto che siamo veramente una squadra e niente, c'è da migliorare sicuramente le percentuali dal tiro, da migliorare in attacco e continuare con questo atteggiamento in cui tutti i ragazzi si sacrificano l'uno con l'altro e cercare di vincere le più partite possibile. Comunque complimenti anche a Don Bosco perché ha giovani veramente bravi, interessanti, sfacciati e credo che qualche partita sono sicuro che la vinceranno da qui alla fine.